Mister Clotet, la SPAL anche in questa occasione esterna non riesce a fare punti, eppure il possesso palla è stato praticamente tutto dei biancazzurri. Cos'è che non ha funzionato in questa gara? Guarda, una partita che mi dispiace tanto perché noi teniamo il dominio della partita in tutta la fase del gioco, dall'inizio fino alla fine. Noi limitiamo la Ternana a un tiro nel primo tempo, a fine della partita con otto tiri totale, noi facciamo 19. La Ternana ha la fortuna di fare un gol di 25-30 metri, non si è una cosa questa, a me non mi ha passato mai questo tipo di gol. Questo va dentro e dopo sta con il risultato 1-0 vincendo. Penso che i nostri ragazzi vanno a cercare la partita, stanno molto bene nella dominazione, sottomettono alla Ternana molto bene, attaccano bene il spazio per fuori, attaccano bene la verticalità, la profondità, stanno bene in preventiva, stanno aggressivi per recuperare la palla subito. Penso che tutto il primo tempo è stato un... solo abbiamo giocato noi, ma loro hanno vinto. Questo è lo che vale nel calcio e tu devi segnare e loro non devono segnare. Se è facile che loro segni, a noi non si costa tanto segnare, quando passa una cosa così è difficile. Ma mi dispiace tantissimo il risultato per il gran lavoro, perché io ho visto oggi una SPAL molto bella, ho visto una SPAL con serietà, con umiltà, giocando avanti, buscando di rientrare nella partita. Noi abbiamo disposto di un'occasione perfetta, non solo per pareggiare, penso che per vincere. in questi 19 tiri, ma oggi non è stato. Peccato, continuiamo così, perché la squadra ha dimostrato che ha fatto un passo avanti in gioco, ma questo non vale, perché gli errori del primo gol non possono passare nel calcio professionista, perché fa che la Ternana giochi con un risultato favorabile, lo fa molto difficile per noi. Questo mi dispiace tantissimo. Possiamo dire che è mancato proprio forse solo il cinismo alla SPAL di segnare nelle occasioni che ha creato? Sì, guarda, alla SPAL è mancato due cose oggi. Le ha mancato parare il primo tiro, che penso che è parabile, e fare il gol. ma si deve pensare che la Ternana con il 1-0 a favore è una partita facile per loro. Deve rischiare, si deve solo aspettare. Penso che è molto difficile creare il pericolo a una squadra così come la Ternana con un marcatore a favore. la SPAL l'ha fatto, ma bisogna di più. Fuori di casa, bisogna capire tutti che dobbiamo non concedere niente e prendere qualche sbaglio dell'avversario che sia possibile. Ma lo sappiamo, andiamo avanti. Noi a casa siamo forti. Adesso è una partita molto difficile con Parma. Penso che oggi abbiamo fatto una gran partita fuori di casa, ma questo non vale niente. Lo che vale la testa a Parma adesso è di sicuro e stare in una mentalità per stare meglio. Parlando della partita prossima, la partita contro il Parma che ci sarà tra pochi giorni, che cosa ti porti da questa partita alla partita prossima? La supremazia territoriale, come la squadra ha uscito indietro per creare situazioni di sottomettere l'avversario, di mettere l'avversario sotto la sua propria area di rigore e solo lasciando l'occasione all'avversario per fare ripartenza che noi abbiamo scontrollato in tutto il momento con la preventiva. Questo è molto difficile di fare in calcio. Io ringrazio la squadra perché fare questo non è facile di sottomettere a un rivale così tatticamente per mentalità e per concentrazione in preventiva e non lasciare opzioni all'avversario che può giocare, che può uscire da una situazione di pressione psicologica costante. Questo penso che la squadra lo ha fatto bene in qualche partita prima, ma oggi lo ha fatto molto molto bene per un grande periodo prolungato di tempo. Ma ricordiamo che questo non vale niente perché non si ha vinto. E noi lo che dobbiamo fare è fare questo e non sbagliare nessuna occasione e farlo per vincere. Essere giovani non è una scusa per non vincere, dobbiamo andare a vincere. Lorenzo Dickman, una partita anche oggi sfortunata, ma sicuramente combattuta da parte della Spal che aveva e ha trovato anche le occasioni per segnare, per passare in vantaggio e anche per pareggiare, ma non ci è riuscita. Forse è mancato un pochino il cinismo sotto porta a voi, Biancazzurri. Sì, senza dubbio. Torniamo un'altra volta a Ferrara senza punti, dopo una partita in cui abbiamo dato tutto, però evidentemente in questo momento non basta. Non basta perché dobbiamo fare di più e dobbiamo cercare di essere più cinici, come hai detto tu, e cercare di iniziare a fare punti anche in trasferta perché siamo stufi di regalare punti. Cosa manca in trasferta alla Spal al di là del pubblico che comunque la segue sempre in casa? Senza dubbio in casa il pubblico ci dà una grande mano, però anche qua sono venuti i nostri tifosi. Dobbiamo cambiare, non atteggiamento, perché alla fine l'atteggiamento c'è, si corre, si lotta, si combatte. Non riusciamo a trovare il gol, anzi forse la Ternana ha fatto il gol dopo 12 minuti, era quello che voleva, e dopo si è messa dietro e non l'ha preso. Pur mettendosi dietro, però comunque la Spal è riuscita a trovare dei varchi per andare in avanti. Avete prodotto probabilmente il massimo sforzo trovando linee di passaggio difficili da trovare perché comunque i varchi erano chiusi. Sì, dentro al campo non si riuscì a giocare perché loro facevano densità in mezzo, bisognava andare per via esterna e doveva mettere qualche pallone in più forse dentro e cercare di cambiare appunto questa rotta che non va, nel senso che non possiamo ogni volta tornare a Ferrara senza aver neanche fatto un punto. L'ho fatta prima al mister, lo faccio anche a te. Che cosa si porta alla Spal da questa partita alla prossima contro il Parma? Certo siamo arrabbiati, siamo nervosi, proprio perché non arriva i risultati fuori casa. Cerchiamo di dare il massimo sabato contro il Parma e cercare di portare a casa i trapunti.